Controllare se entra l'arbitro, primo tiro e c'è il gol 1-0 per l'Essighe Comincia la Nico, tiro e pareggio Perfetto, perfetto, 1-0, 1-0 E tiro e c'è il gol, 2-1 Valaleo sul dischetto, desce E c'è il gol, 2-1 Ultimo per l'Essighe Non sbaglia anche questo Tiro centrale Hai visto che c'è un dovinetto? Grazie Grazie